Nonostante le tante difficoltà affrontate a causa del coronavirus, questa estate i comuni del Cilento e Diano, ma più in generale dell'intera regione Campania, hanno registrato il 25-30% in più rispetto agli scorsi anni in termini di turismo. A dichiararlo è l'assessore al turismo del comune di San Giovanni Appiro, Pasquale Sorrentino. L'intera cerniera del golfo a essere protagonista di un'estate per certi versi unica, insomma per i noti versi, ma a tratti davvero irripetibili perché abbiamo avuto tutti ovunque registrato il 20-25-30% in più rispetto agli altri anni. Da un lato perché era un po' di anni che il Cilento stava guadagnando posizioni, dall'altro il turismo regionale e il turismo di prossimità disegnava idealmente questo territorio come il luogo di attrazione per tutta la regione Campania e non solo. Nelle videoconferenze, nelle call che abbiamo fatto durante il lockdown, io lo avevo detto ed è riscontrabile, ho la prova che questa estate sarebbe stata una estate col segno più. Abbiamo avuto tutti un po' più di tensione per gestire un flusso enorme, ripeto enorme, di persone. Al momento registriamo una situazione di tranquillità, abbiamo tutti i nostri dispositivi, questa sera misureremo la temperatura, daremo le mascherine alle persone. Dove voglio dire, abbiamo continuato tutto ciò che ci è stato richiesto, però penso che il bilancio per il Cilento sia assolutamente positivo. Lascio con un messaggio, adesso i cilentani hanno la possibilità questa volta di potersi giocare delle carte che non avevano la possibilità di giocarsi prima. Non bisogna disperdere questa attenzione che c'è stata per ragioni non spontanee e quindi è un'occasione da ripetere in futuro, non disperdere questa promozione.